Il pellegrino imbarca la porta della misericordia aperta nelle cattedrali, nei sattuali e tanti chiesti nel mondo, negli ospedali, nei carceri per trovare Gesù. Venite a me, prendete il mio gioco, imparate da me. Magari tanti libri del mondo possano dire questo. Gesù non è un principe. E' venuto a quella chiesa quando i pastori diventano principi, allontanati dalla gente, allontanati dai più voli, quello non è lo spirito di Gesù. A questi pastori Gesù vi ricordava. E su questi pastori Gesù diceva alla gente, ma fate quello che loro dicono, ma non quello che fanno. Vivere il misericordio deve essere strumento di misericordia. Coraggio, dunque, coraggio. Noi lasciamoci gogliere la gioia di essere di sé voi del Signore. Noi lasciamoci gogliere la speranza di vivere questa vita insieme con Lui e con la forza della Sua trasformazione.